Ehi ragazzi come va? Io sono Ferinichi E io sono Steph e questo oggi giocheremo a The Sims E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono Leftdudi, Odino Figo, Chiara, Detroit, Flower004 e Lara Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione e vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi E siamo prontissimi per iniziare ragazzi L'idea di fare una serie con Sterinichi e Diana su The Sims ovviamente vi ha entusiasmato tantissimo E siamo pronti, io non vedo l'ora Esattamente, non vedo l'ora di gestire il nostro piccolo ristorante Ma prima di tutto vi mostriamo la loro casettina Che ovviamente è piccola piccola perché dobbiamo partire da qualcosa di piccolo Per diventare ricchi ed espandersi ed avere la villa lussosissima Allora la casa ovviamente non l'ho creata tutta io perché faccio schifo Ok la sappiamo L'ho caricata dalla galleria ma l'ho un po' modificata E se noti qua ho fatto lo studio di Sterinichi e lo vorrei far vedere Guarda il resto perché il resto è più bello perché non l'hai fatto tu quindi è più bello No aspetta queste decorazioni però le ho messe io Queste qui sulla cucina Molto, queste mele tipo? Mele, arance? No ho messo l'altro Mi piaceva l'altro invece a me Vabbè Cos'è che capita? Le messe li sono troppo carini Allora cucina aperta che mi piace un sacco col tavolo Sì ti ignoro Una porta molto carina con un tappetino simpatico Mi piacciono molto i colori di questa casa Questo non è l'arancione È corallo color corallo Ma chi se ne frega del colore? Questo è color petrolio lo so Ok Mi piace tantissimo questo avvinamento e l'ho scelta proprio per questo motivo L'unica cosa un po' triste secondo me è il ristorantino vabbè Il salottino Il salottino No invece Perché è un po' troppo piccolo E invece è una delle parti che preferisco perché essendo una casa molto piccola Chi l'ha creata secondo me ha gestito davvero bene lo spazio Mi piace un sacco Ho capito, ho capito Mi piace un sacco Ma stiamo vendendo la casa o stiamo facendo una serie su The Sims? Entrambe le cose È troppo bellino Mi piace un sacco Aspetta, aspetta, gira Sì, li stavo guardando C'è il poster di Harry Potter Guarda Ah, bello, bello, bello No, sei stata brava Sì, lo so, lo so, lo so E guarda, ho anche messo le tende perché ovviamente quando uno registra non può avere l'illuminazione alle spalle Esatto, esatto E qua, anche se non si vedono nel muro, ci sono i faretti che gli fanno illuminazione Se non ti fate super illuminata Aspetta, posso riuscire a farlo vedere? Guarda, ok Lo vedi, è un faretto, lo vedi? Sì, bravissima Che illumina quando lui registrerà i suoi video Hai proprio curato ogni minimo dettaglio Ma prima di andare a gestire il nostro ristorante dobbiamo fare una cosa Dobbiamo prendere un po' in giro a testa perché dobbiamo proprio farle capire Che noi abbiamo una bellissima vita Lei guarda? Lei guarda dove vive? Abbiamo una bellissima Ascolta, prima ti faccio il recap perché bisogna sottolineare queste cose Una bellissima vita, una bellissima casa, una bellissima moglie E ci stiamo per comprare un bellissimo ristorante E guarda invece lei, l'ho messa qui in mezzo a un campo perché non si merita neanche una casa Esatto Vive in mezzo a nulla, al buio Cioè io avrei paura Secondo me ci sono lupi, ci sono cose cattive Ma a noi non interessa Si dovrà arrangiare, dovrà imparare un po' di sopravvivenza Si dovrà arrangiare Falli litigare Si sta provando a seguire Si sta seguendo, oh mio Dio Scappate ragazzi Vuole fare risa Vuole fare risa È un film horror Guarda come ci segue Sta correndo ancora dietro di noi? Oddio È inquietante questa scena In mezzo ai boschi, al buio, con Tessa che ci insegue E loro che scappano Stiamo scappando in barca Siamo salvi Siamo salvi, siamo salvi Dalle grimpie di Tessa ce ne siamo liberati Non dobbiamo mai più incontrare Tessa Perché ho capito che più pericolosa del previsto Ci voleva picchiare secondo me Si, si, si È arrabbiata secondo me perché l'abbiamo buttata in mezzo a un campo Io ho detto dai, a Tessa io la casa non gliela faccio No, hai fatto bene Non se la meritava Esatto, non si merita neanche una casa Quindi non glielo ho voluta fare Guardate quanto è carino il nostro ristorante Io lo adoro Ti giuro che quando l'ho visto ho pensato che l'avrei voluto per me Perché è bellissimo Io adoro questi ristorantini stile anni 50 Tavola calda americana Esatto Io li adoro È bellissimo È davvero bellissimo È troppo, troppo bellino Abbiamo un sacco di posti a sedere qui e qui Guardate come sono bellini Molto intimi, capito? Puoi stare in disparte Che cos'è questa cosa nel bagno? Il bagno, le bollicine Che cosa sono? Non lo so perché sta apparendo Io ho provato a tirare e indovinare ma mi sta spaventando sta cosa Che cos'è? Sta bruciando qualcosa? Credo sia estetico Perché è bellino, è bellino l'effetto Però mi fa un po' paura Il bagno risulta anche abbastanza elegante Sì, molto carino E poi ovviamente la cucina La cucina Piccolina ma efficace E guardate questo è il tocco proprio di furbizia Oltre ai tavolini fuori abbiamo messo il posto per far giocare i bambini Così i bambini rimangono a giocare I genitori rimangono più tempo seduti E comprano più da mangiare E non solo, non solo Se praticamente tu sei dentro Allora immaginati la scena Ok, ok Sei una dolce famigliola Una dolce famigliola? Famigliola Sì, mi piace L'ho anche detto male ma meno male che mi è corretto Ok Metti che quel giorno i tuoi figli ti stanno proprio facendo impazzire Tu mangi dentro Lasci loro qui fuori Perché vedi ci sono anche dei fumetti nei tavoli Sì Per intrettenerli Lì molli proprio fuori a giocare Tu ti chiudi dentro ed è perfetto Non credo che nessuno ragioni così Mi dispiace Non l'hai ripensata così? No, assolutamente no Però secondo me si potrebbe fare una cosa del genere Provedi almeno per far capire che noi siamo una tavola calda Che accetta qualsiasi tipo di cliente Esatto, bravissima Questa è una cosa importantissima Sono stata brava Sì, molto Ma è tempo di gestire il tutto È tempo di gestire il ristorante Perché domani dovremo aprirlo E quindi oggi va sistemato tutto Sei la prima cosa che facciamo? Cosa? Assumiamo i dipendenti Bello, scegliere i dipendenti E poi sai che possiamo fare? Scegliere anche le divise Ok E tutte queste cose È una figata Il nome, il nome non mi convince Allora io te lo dico Il nome lo sceglierete voi nei commenti Ragazzi proponeteci Eh sì, va bene Il nome ce lo potete proporre voi nei commenti Sceglieremo quello che ci piace di più nei commenti Perché non abbiamo la minima idea E ne vogliamo uno carinissimo Esatto, ecco Questo ristorante si chiama già Burger Meister Che a me sinceramente non piace Ci siamo messi mezz'ora a decidere Ma che nomi gli diamo? Che nomi gli diamo? Non ci è venuto in mente nulla Allora Andiamo subito Dobbiamo scegliere Allora Chef Camerieri E infine Il direttore di sala Allora partiamo dallo chef Perché è la cosa più importante Guarda ne abbiamo Vabbè C'è Cracco C'è Cracco Ma lo assumiamo qua Lo assumiamo Dai Su ragazzi Ma guardate gli altri Poi cosa volete un alieno Cioè che abbiamo detto Che accettiamo tutti Ma non esageriamo A livello di abbigliamento Il più adatto sarebbe Questo Paolo Serra Perché è proprio Perfetto per una tavola calda Ma poi ci pensi Ci pensi a questa cosa Che nella nostra serie Guarda che trip Ok Nella nostra serie Degli esperimenti sociali A Cracco Lo faremo lavorare In un fast food Ok Eppure qui Lavoro in una tavola calda Poveraccio Ma non è un trip Pensavo qualcosa di più complicato No è fighissimo Perché tutte le serie Comunque finisce a lavorare In un posto Ok 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 Va bene dai Fermati così Che è meglio Mi sono emozionata troppo Esatto Assumiamo Cracco come chef Dopodiché Dobbiamo scegliere Il cameriere Allora Qua bisogna fare Una scelta difficile Perché Allora Costano tutti i due dollari Allora Perché il cameriere Lo dobbiamo pagare poco Comunque Bisogna dirlo Due dollari è un po' Proprio una miseria Però Il cameriere Non è neanche il minimo sindacale Esatto Vabbè È cattiva sta cosa Meglio per noi Che paghiamo gli alieni Io non voglio alieni Sei pazzista Un po' Un po' Devo essere sincero Che gli alieni Non sanno parlare bene la lingua Mi dispiace per Liam Liam è l'unica Che mi sta simpatica Ma gli altri No Non mi piacciono Simone grazie Ok va bene Prendiamo Simone E infine Il direttore di sala Questo è un lavoro importante Direttore di sala Voglio Giulia Giulia mi sembra una ragazza a posto Bravissima Anche io subito Mi ispira fiducia Appena l'ho vista Ho pensato a Giulia Ok Abbiamo i nostri tre dipendenti Questa cosa è fatta Direi di scegliere le divise E non sarà per niente semplice Come si fa? Non lo so Stavo per chiederti la stessa cosa Ok Qua Il menù lo facciamo dopo Cos'è il ricarico prezzo? Cos'è il ricarico prezzo? Praticamente tu puoi metterlo Più o meno caro Capito? Quindi noi possiamo decidere Di vendere a poco o a molto Io direi di partire Con un prezzo molto basso Perché così Atti di clienti Quando inizi a andare Un po' di moda Andiamo a 300% Sei matto Ma sei matto Esaurito La tavola calda Più cara del mondo Allora Le divise dello chef A me questa piace molto A me piace La voglio vedere In gigante Sì 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 vai La voglio vedere anche io più grande Però mi sembra carinissima Perché se ho visto bene C'è il grembiule Con tipo un disegnino Troppo bellino Mi sembra che sia un pollo No no Oh mio Dio È più quello di quanto È così È perfetta Perfetta Questa non possiamo modificarla È proprio perfettissima La 10 e lode È questa giusto È la divisa È tutta la divisa Vedi Perfetta Sembra uno di quelli Che pulisce Invece che servire Pulisce Perché devono essere di rosa No io direi di metterla Sempre sul rosso Che dici Ma è un po' scuro È un po' scuro Come rosso Questo mi piace di più Questo mi piace Oppure mi piace anche Il celestino Quello di sotto Questo Sembra carino Ok Perché la tavola calda Tende ad avere questi colori Molto vivaci Molto accesi Che dici? Quale scegliamo? Vai di giallo Dai Ok Giallo secondo me Ci sta meglio con rosa Il grembiule Non possiamo cambiarlo Va bene Va bene È carino È una divisa completa Puoi solo cambiare il colore Ok Ok Quindi ce l'abbiamo Manca soltanto il direttore di sala Direttore di sala Forse È difficile scegliere Perché dovrebbe essere elegante Dato che accoglie O comunque è molto casual Anche lui Questa è una scelta difficile Una via di mezzo Secondo me Cioè tipo casual Ma neanche troppo casual Ok Forse ho un'idea No non hai capito Certo Guarda che cosa ti ho trovato Cosa stai combinando? È troppo figo Non ti piace? Non tanto Troppe spille Troppe spille È un po' esagerato Però lo stile mi piace Secondo me Mi sembra un po' appariscente Può funzionare Forse i pantaloni Giusto un po' troppo eleganti Una roba del genere Può andare meglio no? Sono un pigiama quello Perché gli stai mettendo un pigiama? Perché hai detto Che era troppo appariscente La parte di sopra Così attiriamo di sotto No? Gli abiti per tutti sono conclusi Guardate che carini Guardate il nostro personale Come sarà fighissimo A me piace un sacco Sarà una figata pazzesca Ma adesso dobbiamo decidere La cosa più importante Per un ristorante Ovvero il nostro menù Allora qua Si fa davvero difficile Assolutamente Bevande Come funziona però? Perché aggiungi Ah le possiamo aggiungere Ok vedi Quelle sottolineate Sicuramente sono quelle Che ci sono già Le puoi togliere E metterne altre Sì Vedi? Sì Sì Questo è importante Perché guarda Possiamo vedere Fredde Calde Alla frutta Effervescenti Nettari E altro Cioè di tutto Non la finiremo mai Allora io direi Contendo che siamo Una tavola calda Sempre qualcosa di molto semplice Non drink troppo elaborati Ok Non bevande troppo strane Cose appunto Che possono piacere a tutti Acqua frizzante Il latte Va bene Succo d'arancia Questa direi di no Caffè sì Caffè americano Caffè latte assolutamente sì Assolutamente Caffè espresso sì Arabico no Ok guarda Vedi ci ha aggiunto le cose Quindi abbiamo Acqua Acqua frizzante Latte Succo d'arancia Caffè Caffè americano Caffè latte Bevanda gassata Caffè Caffè Camomilla Vai 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 Comunque Un sacco di tipi Dite questo pol che è arancia Giusto se magari Qualcuno vuole qualcosa di alcolico Dai O no No Lo tolgo anche il succo di malto Sinceramente non li avevo notati Anche la brezza marina No Non è nello stile giusto Così mi sembra Il vero menu A livello di bevande Per una tavola calda È perfetto Anche secondo me Anche secondo me Antipasti Non la finiremo più Con questa cosa Non ci credo Ma ci sono No 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 Guarda I cereali Popcorn dolce È troppo carino Cos'è il grissino Toglilo Che cavolo è Ci sembra che vada bene Sì Questo piatto è spaziale Bellissimo Vero Vedi adesso abbiamo Portate principali E dessert Qua ci si fa davvero difficile E questo finalmente È il nostro menù completo Sono felicissima Ce l'abbiamo fatta Dopo un sacco di tempo È perfetto Abbiamo concluso il menù Cioè guarda qua Guarda le portate principali Abbiamo formaggio grigliato Hamburger vegetariano Hot dog Uova strapazzate Il tramezzino L'hamburger L'hamburger normale Uova e toast Che gli americani Non mangiano un sacco Le fritelle Che gli americani Non mangiano un sacco Pizza al formaggio E omelette Secondo me è perfetto È perfetto Qua invece abbiamo messo Un sacco di ciambelle Un po' di muffin Delle torte Il biscotto con scalicciocato Che è proprio un classico Bellissimo Tiramisu E torta di mele Che ovviamente È torta di mele Ripeto Guardando i film americani Le tavole calde Hanno sempre O le fette di torte O le ciambelle Quindi direi che è perfetto Secondo me Abbiamo fatto un menù stellare Sono felicissimo Mi piace un sacco tutto Non vedo l'ora di aprirlo Sono davvero felice Mi piacciono le divise Mi piace il menù Mi piacciono Stereniki e Diana Sono davvero troppo felice Esattamente Manca sodalto il nome Che dovrete scegliere voi E nel prossimo episodio Apriremo il nostro ristorante Alla faccia di tessa E come ultima cosa Ovviamente andiamo a salutare Gli altri sei eroi del giorno Che per oggi sono AntBlob Antonio Sam Kawai Valerio Matteo E FenixTube Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi Il video mi piace così Se è piaciuto lasciateci un bel like E se è la prima volta Che avete un altro video Potete considerarli Dei iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao